Ciao a tutti, sono Matteo Martino e vengo da Alessandria e ho 29 anni. Un ex pallavolista per adesso decide di posare nudo perché mi piace molto mostrare me stesso. Meno sono vestito, più sono a mio agio. Infatti mi sono divertito molto oggi, è stata un'esperienza bellissima. Che sia nudo il calendario, che sia semivestito, che sia vestito per me non ha importanza. A me piace proprio mostrarmi per quello che sono e mi dà molta soddisfazione. Il boys non lo conoscevo personalmente, ma sono venuto a saperlo tramite persone di fiducia, tramite mie conoscenze. Sono andato un po' a investigare sul progetto, mi è piaciuto molto. Sono molto soddisfatto di averlo fatto e speriamo vada tutto bene. Io ho avuto questa esperienza uomini e donne che per me mi è servita tanto per conoscere soprattutto quel mondo lì, anche perché io vengo da tutt'altro mondo quello sportivo. Questo calendario mi ha anche servito come una mezza rivincita verso quelle troniste che non mi hanno portato troppo in esterna per fare vedere a loro cosa si sono mangiate e adesso che mi piacerebbe vedere a casa che si mangiano le dita. Il mio più grande sogno è fare l'attore, quindi nella vita si parte sempre da una piccola scaletta per poi arrivare a scalare la montagna, come si dice. Quindi spero che gradino dopo gradino io possa intraprendere la stessa strada che ho intrapeso nello sport. Nel mio sport ho fatto, diciamo, secondo me tutto, ho vissuto tantissime esperienze e spero di rivivere la stessa carriera che ho fatto nello sport e nel mondo dello spettacolo. Grazie a tutti.